...e si domandava che senso avesse avuto alcune persone di questo, l'angelo le dici, non temete un marito, perché hai provato grazia presso di me, e detto, concepirai un piso, lo darai a lui e lo chiamerai, sarà grato, e te l'ha chiamato un piso del nato di me, e il signore figlio ci darà con il prono di capi del suo padre, e regnerà sempre sulla casa di Jacopo, e la città che si è consagrata all'Immacolata, come Fiumanni Paolo II abbiamo ripetuto alla Madonna, siamo tutti i tuoi, e la Madonna ha risposto, e io sono questa mamma della casa, e un cuore d'argetto, che rappresenta il cuore dei torresi, il cuore dell'anima, potevamo anche metterlo solo, ma io ho una preoccupazione, perché spesso quel regnale non si sa da stavore, la preghiera di un piccolo di quest'anno, ma bene, negli altri portatori, durante la settimana, la domanda di te, che viveremo in qualche calma, e che si sa da stavore, ma adesso l'anno, decidiamo di chiedere, la pubblichiamo, ma non chiediamo la valore, ma non chiediamo la valore, ma non chiediamo la valore, ma non chiediamo la protezione, ma non chiediamo la valore, 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 grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.